Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo What It In A Day, il solito disclaimer iniziale, come sempre quindi partiamo dalla colazione. Quel giorno per colazione porridge con crema di arachidi, buonissima banana e il mio solito caffè latte con il caffè e il latte di avena, che adoro. Io amo il porridge ragazzi, buonissimo, io lo preparo proprio più che basico, ma è una colazione che veramente mi appaga tantissimo, sia dal punto di vista del gusto, sia anche dal punto di vista della sazietà, vi dirò. Allora io prendo i fiocchi di avena, aggiungo poi il latte vegetale, con il latte vegetale di avena mi piace tantissimo, vi dirò, e comincio a farlo cuocere finché non raggiungo la densità che mi piace di più. Come avete visto nel frattempo ho scaldato anche un po' di bevanda vegetale d'avena appunto per fare il caffè latte. Questa è la crema di pistacchi che utilizzo io, che non contiene neanche il latte, quindi adoro. Metà mattina, così ho spezzato con i pavesini, raro, perché è rarissimo che faccia appunto merenda a metà mattina, ma arriviamo quindi al pranzo. Quel giorno per pranzo ho fatto questo primo, molto semplice, con i pisellini e i carciofi. Semplice però ragazzi, anche qui super sfizioso. Ho messo a preparare prima di tutto i pisellini. Io metto un filino di acqua, la cipolla, perché la cipolla insieme ai pisellini piace da impazzire. Poi con tanta santa pazienza ho pulito tutti quei carciofi, chiaramente con i guanti, perché altrimenti mi si fanno le mani nere, importantissimo. E poi niente, appena l'acqua è arrivata a bollore ho messo dentro i pisellini surgelati. Una volta cotti li vado ad unire quindi ai carciofi, che intanto stavano cuocendo, e li finisco di far cuocere insieme. Semplicemente butto la pasta, lo so ragazzi, le pennette lisce non piacciono a nessuno, probabilmente piacciono solo a me, ma io le amo. E quello è stato il mio pranzo, mi sono saziata così. Per merenda, le patatine con la Coca-Cola. E arriviamo quindi alla cena. Allora qui mi sono proprio sfiziata. Allora, uova strapazzate, verdure al forno, quelle sono carote e finocchi gratinati al forno, e poi le patate appunto al forno e un po' di pane. Che avevo riscaldato al forno. Va bene, comunque. In realtà la preparazione, come sempre, è molto molto semplice. Allora, pulisco e taglio le patate a fettine. Olio e sale, che non ho neanche speziato, niente. Olio e sale e vado a disporre sulla teglia a metà. Poi sull'altra metà invece vado a condire prima le carote con i finocchi tagliati, insomma un pochino così a stick. Aggiungo anche il pan grattato. Questo del Conad è buonissimo perché rimane più spesso e una volta cotto in forno diventa super croccante. Mi piace da impazzire. Non so dirvi i tempi perché io non guardo mai i tempi. Cioè mi rendo conto che è cotto guardando. Ecco. Lì intanto vi avevo mostrato le mie nuove presine, delle quali vado enormemente fiera. E qui niente, semplicemente un paio di uova strapazzate. Niente di che. Che a me piacciono veramente ben ben cotte quando sono strapazzate. E anche per oggi è tutto ragazzi. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!